ciao a tutti sono Dima e oggi andremo a fare un giro sui Colli Bolognieri stiamo per passare il liceo artistico ciao liceo ho fatto la prima salita del piazzo e poi abbiamo capito perché c'è scritto fine Bologna e qua di nuovo il carpello fine Bologna chissà in quale città o paesino secondo l'altro 120 sono quasi arrivato alla meta fatto 200 metti il risveglio consegnami a sognare non so più come sempre vorrei vivere un altro giorno ma non ce la faccio dire ciao ciao sono Dima il mio nome è andato siberiano sono la Bolognese e vado per questi Colli perché mi parte subito un freestyle e mi distruggono questi rumori con tutta sfumature di colori questo è perfetto questo è perfetto perché di solito io vivo in un ghetto la c'è Bologna la dietro c'è San Michele in Bosco con l'ospedale ma c'è San Luca San Luca che poi là c'è il suo e queste qui sono le colline volondesi bella eh boia cagna socia che fatica tanto che si beviene con tutto il socia che è ah 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 c'è il tipo che mi appena appena ho detto che sarò con una braccia me la dà molto molto gentile boia cagna Siamo arrivati sul posto e adesso vi faccio vedere la bellezza di questo panorama che Ho speso così tanti soldi all'Emporio che adesso ormai non ho più il portafoglio e sono rimasto senza un ghello, senza un soldo è finita qui, è finita sono arrivato a destinazione ho mangiato e adesso vado a casa che cazzo faccio vado a casa che cazzo vado a casa vado a casa Spero che il video vi sia piaciuto e lasciate un bel like e iscrivetevi qui sotto così sarete sempre aggiornati per l'uscita di un mio nuovo video Ciao